Le eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche saranno protagoniste dell'edizione 2014 della Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 13 al 15 febbraio in mostra le principali attrazioni turistiche del territorio di Napoli e della Campania che saranno presenti alla Fiera Internazionale insieme ai paesi europei, asiatici, africani e sudamericani. 75 operatori campani e oltre quelli che verranno ulteriormente hanno manifestato la loro intenzione di essere a Milano e cogliere questa occasione per poter promuovere la nostra vera grande economia che è lo sviluppo turistiche e beni culturali. Spazio nell'ambito dell'offerta regionale al mare, al termalismo, all'archeologia e ai musei. Il Comune rafforza invece la proposta di turismo culturale con il circuito dei musei cittadini, delle chiese e di un centro storico di straordinario interesse. Noi presentiamo questo stand in cui abbiamo un po' giocato sulla famosa frase di Aristotele che la conoscenza nasce dalla meraviglia e abbiamo detto Napoli, la meraviglia nasce dalla conoscenza. Su questo dobbiamo far leva anche per affrontare i momenti difficili che attraversiamo. Una città complessa con tanti problemi ma con una vitalità e una ricchezza davvero che per chi la viene a conoscere può destare tanta meraviglia. Attraverso lo stand istituzionale il Comune di Napoli darà spazio agli operatori che negli ultimi anni hanno contribuito con iniziative di forte richiamo turistico al rilancio di una programmazione che nel 2013 ha fatto registrare piccoli segnali di ripresa. Noi ci auguriamo che se non alla BIT ma nei giorni immediatamente successivi alla BIT possa essere anche finalmente licenziato il disegno di legge sul quale anche le categorie hanno molto puntato da parte della Regione con l'Agenzia regionale e le strumentazioni moderne che possono dare delle risposte adeguate diciamo alle esigenze di un turismo sempre più esigente dove i consumatori sono i veri opinion makers. Contemporaneamente alla BIT di Milano il 14 febbraio a Napoli si svolgerà la manifestazione della Notte degli Innamorati un ricco programma di mostre, concerti e visite guidate consultabili sul sito del Comune.